Leo, alla fine, anche oggi, hai fatto una partita importante, quasi una partita vera, una squadra che ti ha messo in difficoltà, anche se per lunghi tratti il Parma ha giocato da Parma, da grande squadra. Sì, sì. Penso che nel primo tempo abbiamo dominato la partita, magari bisogna andare di sopra con qualche numero in più. Dopo, nel secondo tempo, loro hanno migliorato, anche noi abbiamo giocato abbastanza bene, però alla fine, parlando generale, penso che Parma oggi ha fatto una grande partita, come hai detto, due in un campo grande, che non è semplice, giocare contro una squadra spagnola, loro hanno un ritmo importante e la nostra squadra penso che ha fatto il suo deber. Ultima cosa, calci di rigore, ti sei improvvisato rigorista, ma soprattutto ne hai parlato uno che poi è stato decisivo, quindi il meglio è sempre tra i palli. Sì, sì. Dallo staff mi hanno chiesto di calciare, ho detto sì, mi sono presentato lì, peccato che non sono riuscito a segnare, però è importante che sia vista una squadra che ha lottato, che ha giocato bene, ha entrato, ha sofferto come bisogna soffrire sempre. Parlando, come ho detto prima, in generale, penso che è stata una partita molto positiva. Grazie! Grazie!